L'ultimo rintocco L'ultimo rintocco Venuta a sapere di questo libro mi sono ovviamente fiondata a leggerlo e vi posso assolutamente dire senza ombra di dubbio alcuno che questo romanzo merita. Merita doppiamente, in primis perché è un romanzo veramente ben scritto, ben strutturato e poi perché ha anche un risvolto benefico. Infatti l'autore Diego Pitea ha deciso di devolvere parte dell'incasso per la vendita di ogni libro all'associazione della lega del filo d'oro. Quindi oltre a trovarvi tra le mani un ottimo romanzo thriller fate anche un'opera buona e quindi unire due cose è un'idea veramente ottima. Ma veniamo al libro. Il libro in un certo qual modo io personalmente lo divido in due parti. La prima e poi la seconda che veramente ha anche un suo perché e che poi vi spiegherò. Dunque nella prima parte abbiamo il protagonista. Il protagonista si chiama Richard Dale di origini inglesi. È uno psicologo affetto dalla sindrome di Asperger. Questo però non gli preclude assolutamente una vita professionale, una vita affettiva. Infatti è sposato, la moglie si chiama Monica e hanno anche un bimbo piccolo, Samuele. Quindi è una persona normale perché la sindrome di Asperger non è che sia chissà che cosa particolare. Spesso collabora con la polizia ed è appunto con loro che si trova a collaborare quando il capo dell'unità contro i crimini e violenti e che ha una sua sigla UACV, mi sembra, scusate, io con gli acronimi sono veramente un disastro. È l'unità analisi crimini violenti. Ebbene, il capo di quest'unità, Nenì Marani, lo convoca insieme alla profiler guerrera perché si trovano davanti a un omicida seriale. Ebbene, questo assassino, che verrà chiamato l'escissore, colpisce donne in stato di gravidanza. Le uccide e poi, aprendo loro il ventre, estrae il feto che scompare. Come se non bastasse, ingaggia una specie di gioco perverso con gli inquirenti. Lascia sui luoghi dei suoi delitti delle tracce, come delle specie di puzzle, che dovrebbero permettere, sebbene incastrati questi indizi, far comprendere chi sarà la prossima vittima. Ed è a questo gioco folle, perverso, malato, appunto, che Marani, insieme a Richard Dale e alla guerrera, di cui mi sembra ricordare il nome Doriana, vado a controllare, sì, Doriana, chissà perché io rimuovo sempre i nomi di battesimo, tengo solo i cognomi, deformazione di insegnante, che si chiamano sempre gli allievi per cognome. Ma comunque, ecco che i tre iniziano una caccia serrata a questo omicida seriale, fino ad arrivare ad una conclusione. Sembrerebbe tutto finito, ma, proprio sul finire di questa vicenda estremamente cruenta, succede qualcosa di destabilizzante. La moglie di Richard Dale, Monica, sparisce. Ritorna a casa della moglie, non vi è più traccia. La donna sembra svanita nel nulla. Non ci sono segni di effrazione, di colluttazione. Nulla. La donna si è come dissolta, come nebbia al sole. Passerà quasi un anno. Un anno di inutili ricerche da parte della polizia. Un anno in cui Richard tornerà a richiudersi in se stesso. Diventerà l'ombra di se stesso, proprio macerato da questo dolore che non gli dà tregua. La moglie, con la quale viene anche descritto il rapporto, non è che viva proprio una situazione idilliaca, ma sono uniti da un affetto profondo, si amano e si fanno reciprocamente dei dispetti, ma sono quei dispetti che nascono proprio tra le persone quando si vogliono veramente bene. Non sono dispetti fatti di cattiveria fino a se stessa, sono un pungolare l'altro, rigirando il coltello nella piaga dei difetti che riscontriamo nel nostro compagno. Quindi è un gioco un po' per stuzzicarlo e al tempo stesso mandare il messaggio di ma fidati, se io gioco proprio su questa tua debolezza, è perché la comprendo, la accetto e vorrei soltanto che tu la superassi. Ebbene, Richard, dicevo appunto, dopo quasi un anno dalla scomparsa della moglie, ancora non si dà pace. Ed ecco che viene richiamato, richiamato proprio da una telefonata di Doriana Guerrera. Siamo di fronte a un altro omicidio, un omicidio che però non ha nulla a che fare con l'escissore. Una ragazza è stata trovata morta in un ufficio. Ed ecco che qui entriamo nella seconda parte del romanzo che ha anche un suo risvolto, una sua motivazione di essere. Quando leggerete questo romanzo, che vi consiglio caldamente proprio, scoprirete che questo secondo delitto rispecchia paro paro il caso della povera Simonetta Cesaroni, ossia il caso del delitto di Via Poma. È proprio una ricostruzione, con ovviamente cambiati i nomi dei personaggi, di quanto accadde in Via Poma, quei primi giorni di agosto, di tanti tanti anni fa. Ecco che Richard Marani e Doriana si metteranno a studiare il caso e vedranno come gli indizi di colpevolezza passeranno da uno all'altro all'altro al capovolgimento finale e alla scoperta dell'assassino, della povera vittima in questione che nel romanzo si chiama Paola, grazie a un'intuizione proprio di Richard. Ma, mentre stiamo analizzando tutto questo, negli uffici della polizia viene recapitata una busta. Una busta contenente un messaggio e una ciocca di capelli. Questa busta è destinata proprio a Richard. Marani, che è il primo a guardare in questa busta, resta veramente interdetto, quasi timoroso di consegnare il plico a Richard Dale, che però, una volta avutolo tra le mani, rimane letteralmente senza parola. Nella busta ci sono una ciocca di capelli che lui riconosce immediatamente come essere i capelli di sua moglie Monica e poi questo messaggio. Questo messaggio che è un enigma, l'ennesimo enigma, una via di mezzo tra una sciarada, un indovinello, una frase in latino, insomma, una summa di interrogativi ai quali Richard dovrebbe cercare di rispondere e un messaggio molto, molto chiaro e drammatico. tua moglie è ancora viva, è nelle mie mani. Ebbene, io tra 24 ore ucciderò un'altra donna. Potresti salvarla in un caso o nell'altro, poco importa, perché allo scadere delle prime 24 ore ti resteranno altre 24 ore per salvare tua moglie. Allo scoccare della mezzanotte, appunto all'ultimo rintocco, anche tua moglie verrà uccisa. Quindi Richard si trova davanti a una cosa che avrebbe sconvolto chiunque. scoprire dopo un anno dalla scomparsa che la moglie pensata morta sia in realtà viva e per un anno sia stata tenuta segregata, prigioniera. Quindi già questo farebbe impazzire di dolore chiunque. Non solo, ma a su di lui gravano questi due macigni. Uno, cercare di salvare nelle poche ore che gli restano questa nuova vittima di cui non è dato sapere alcunché, salvo pochi labili indizi molto, molto ambivalenti e soprattutto sapere di avere poi altre sole 24 ore per ritrovare e salvare, quindi ricondurre a sé l'amatissima moglie. Non vi spoiler nulla. Vi dico soltanto l'ultimo ritocco è il classico libro che si inizia a leggere e si tira all'alba perché non si riesce a staccare gli occhi dalla pagina. Il ritmo è serrato, le indagini sono molto, molto ben spiegate, quindi c'è un lavoro di ricerca. E infatti una volta letto il romanzo, saltandomi subito all'occhio, questo parallelismo incredibile tra il delitto di Paola, il personaggio di fantasia appunto che troviamo nel romanzo di Pitea e il caso di Simonetta Cesaroni, mi sono premurata di contattare l'autore stesso, persona peraltro gentile, disponibile, squisitamente educato, molto esaustivo nelle risposte. Ebbene, la mia domanda è stata appunto la scelta, la scelta di questo caso di cronaca ancora irrisolto. È una scelta perché appunto non si sa ancora chi abbia ucciso la povera Simonetta quindi cercare di dare l'ennesimo suggerimento agli inquirenti o cos'altro. La risposta è stata estremamente spiazzante. Ossia, Diego mi ha detto che ha studiato per lungo lunghissimo tempo gli incartamenti di tutto il caso di Via Poma. Ha parlato con inquirenti magistrati e a suo avviso avviso che peraltro io condivido anch'io ho seguito il caso e continuo a seguirlo perché ci sono cose che a me non quadrano. Ebbene Diego ha avuto il mio stesso pensiero ci sono delle incongruenze ci sono piste che non sono state battute a sufficienza ci sono state perdite di tempo ci sono stati quasi come dei depistaggi ovvio che queste considerazioni che abbiamo fatto Diego ed io sono le classiche considerazioni che fanno le persone che vivono al di fuori dell'indagine vera e propria ossia voi dovete anche pensare scusate ma mi sto mettendo la crema sulle mani perché a fare di mettere disinfettanti sto perdendo le pelli come tutankamo bene stavo dicendo noi che viviamo al di fuori dell'inchiesta vera e propria possiamo avere uno sguardo più distaccato possiamo ragionare con più freddezza e soprattutto con più calma tutta questa calma questa serenità di pensiero purtroppo agli inquirenti non è concessa non è concessa perché perché tempi stringono sempre come si dice in gergo e vuoi le pressioni dei vari PM magistrati che insomma vogliamo fare qualcosa insomma si sta facendo qualcosa eccetera eccetera e non ultima la pressione mediatica di televisione stampa mezzi di comunicazione insomma non si viene lasciati tranquilli io a volte credo che se questo sembra una censura ma non lo è è il desiderio di chi vorrebbe che per prima cosa si perseguisse la giustizia allora quando siamo di fronte a un caso di cronaca la cosa più importante la cosa principale è a mio avviso scoprire l'autore del crimine quindi per cortesia giornali televisione radio dovrebbero dovrebbero avere il pudore e l'intelligenza e la decenza di farsi da parte poi vi racconteremo tutto per filo e per segno vi daremo tutti i particolari vi daremo anche le foto di repertorio tutto quello che volete ma lasciateci lavorare in pace e invece c'è sempre questa presenza costante magistrati inquirenti poliziotti che ogni qualvolta mettono mezzo piede fuori dalla soglia vengono assaliti da questa pletora di microfoni urli flash di fotografi allora è vero questo è vero quell'altro c'è bisogno di calma bisogna riflettere bisogna analizzare anche le cose che agli occhi dei più sembrano irrilevanti ebbene molto spesso è proprio data dall'analisi di queste minuzie che si riesce a ricostruire la dinamica di un crimine e quindi poter assicurare alla giustizia il colpevole ma fin tanto che chi indaga sarà assillato pressato inseguito fagocitato da questa macchina che tutto tritura in nome del tutto quanto fa spettacolo e molte cose non funzioneranno come dovrebbero ora io non sto dicendo che il caso di via Poma non si sia potuto risolvere a causa della presenza quasi ossessiva della stampa ma è anche vero che la stampa ha avuto il suo bel carico da undici di colpe per aver gettato in pasto al pubblico il mostro oggi poi domani non è più mostro noi mettiamo un altro poi un altro tutto per far vendere copie per per squallido mercimoni ebbene tornando al discorso fatto con Diego Pitea lui appunto mi ha detto che dopo aver studiato per lungo tempo gli incartamenti gli atti processuali e addivenendo alla conclusione che ci fossero delle palesi incongruenze si attivò per palesare questa incongruenza a chi di dovere purtroppo a tutt'oggi la sua segnalazione non ha avuto risposta in un caso o nell'altro abbiamo una realtà che viene non romanzata ma esaminata sotto un punto di vista particolare con una soluzione di un certo tipo tra l'altro tengo a precisarlo perché sono parole di Diego la soluzione che lui propone nel romanzo non è nemmeno quella che per lui è quella possibilistica nella realtà del caso Cesaroni ma speriamo che prima o poi qualcosa si muova in questo ambito comunque ritornando al romanzo è qualcosa di veramente potente a me è come dico in una maniera molto terra terra a me è piaciuto un casino credete mi è piaciuto un casino sto romanzo la storia i personaggi non c'è un personaggio che non piace sono tutti ben delineati sono tutti ben descritti è descritta l'atmosfera privata di Robert è descritto il carattere di Doriana che si muove tra il suo lavoro e questo amore inconfessato inconfessabile verso appunto Richard Dale mi sa di averlo chiamato Robert e a questo punto nasce in me il dubbio è Robert o Richard? è Richard è Richard esatto credo di averlo chiamato Robert prima vabbè questo sonore inconfessato per Dale Marani questo capo dell'unità crimini violenti sono tutti personaggi veramente ben descritti non sono soltanto professionisti all'opera sono anche esseri umani e quindi hanno i loro momenti di crisi di caduta di debolezza di bisogno di soccorso dai colleghi proprio perché l'ambiente in cui si muovono le brutture gli orrori con i quali entrano quotidianamente in contatto li toccano nel profondo perché chi lavora in questo genere di ambiente non crediate che abbia il pelo sullo stomaco è una scelta di vita questo sì ma è una scelta di vita che comporta un costo personale molto alto ci si porta dentro incubi interrogativi angosce paure si cerca di mascherare la cosa imparando a relegare il tutto in un angolo cioè si crea come una camera stagna quando si stacca per modo di dire dal lavoro si dà un giro di chiave alla camera stagna ovviamente è il mio video se non lo suonino e si continua a vivere ma credetemi è un'ombra costante che si percepisce comunque nella vita di chi affronta certe tematiche ma dopo questa lunga disquisizione che spero vi porterà a leggere questo bellissimo libro vi do a tutti gli estremi del caso Diego Pitea l'ultimo rintocco allora sono 389 pagine la casa editrice è Kindle Amazon lo trovate in un formato elettronico a 6,99€ mentre in formato cartaceo pubblicato dalla GoWare di Firenze lo trovate a 17,99€ ricordatevi che comunque in un caso o nell'altro l'autore ha deciso di destinare una parte degli incassi di vendita del libro sia cartaceo che elettronico a favore dell'associazione della Lega del Filodoro quindi tanto di cappello Diego Pitea io penso che torneremo presto a parlare di lui perché è un autore veramente molto 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 promettente anche se questo non è il suo primo libro lui è arrivato in finale nel premio tedeschi della Mondadori con un altro thriller un altro giallo che però io purtroppo non sono riuscita a reperire in alcun modo e amerei molto poter leggere invece ma credetemi questo libro non è una mia sviolinata perché è suggerito da un amico scrittore che a sua volta mi ha fatto entrare in contatto con lui e che nei miei confronti si è dimostrato molto ma per l'amor del signore se Diego Pitea avesse scritto una puttanata io ve lo direi paro paro perché non vengo pagata io questo sia chiaro anche il libro di Diego me lo sono comprato con i miei soldi tutti i libri che io leggo e che vi recensisco li pago con denaro mio denaro che io guadagno con il mio lavoro regolare regolare insomma di questi tempi si fa per dire ma comunque io non sono sponsorizzata io dico soltanto che il formato elettronico che è quello del quale fruisco quasi in toto è fornito da Amazon che però mi fa sempre pagare i libri al loro prezzo di vendita anche in formato elettronico io non ho sconti non ho interessi di sorta le mie tasche con questo canale non si riempiono se mai si svuotano ma poco me ne cale perché io parlo di una cosa che amo svisceratamente cioè la lettura di conseguenza voglio o almeno il mio intento è quello di trasmettere anche a voi questo amore per i libri e quando trovo un libro come in questo caso che mi ha particolarmente soddisfatto trovo ancora più piacevole parlarvene quindi diego pitea l'ultimo rintocco lo trovate in edizione elettronica sono in formato cartaceo la casa editrice la goware di firenze veramente merita 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 ho visto che sul sito di amazon ha quattro stelline e diopo con questo è tutto sto terminando adesso ve lo dico tanto per darvi prossimamente su questi schermi l'ultimo libro scritto da una coppia che ha diverse pagine su facebook la più famosa è se i social network fossero sempre esistiti e questa volta hanno scritto la divina commedia riveduta e scorretta ve ne parlerò perché ho da fare una considerazione su quel libro per ora veramente è tutto un bacione e il mio arrivederci a presto ciao ciao